Ciao a tutti e benvenuti a quattordicesima giornata della maratona estiva Come sempre io sono Ari e il tipo di ieri sta ancora andando a fuoco Se faccio silenzio si sente Sta ancora andando a fuoco Da ieri Ok La verma delle forze armate Non era particolarmente difficile da trovare Ok andiamo alla caserma e vediamo cosa succede Inizio addestramente Sono dato scelto al rappresentante Parlami Benvenuto a nuova recluta Addestramente insieme ai nuovi arrivati 3,2,1 Salve, salve, salve Buongiorno, buongiorno Sì, salve, salve Apertura forte Aprire solo dopo l'inizio della simulazione Cliccare per iniziare la simulazione No aspetta Qui c'è No grazie Questa spada è abbastanza schifosa Non la voglio La mia è abbastanza potente Mio dio ma quanto cazzo Ho piscito queste cose Allora iniziamo la simulazione Ragazzi siete pronti per la guerra? Sì Ragazzi siete pronti per la guerra? Sì Blah 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 Stronzate varie Che diamine sta succedendo? Ehi non ho arrivato Apri le porte che usciamo per uccidere gli infetti E trovare la chiave Infetti, chiave, capo dei soldati Sì trovala e vincerai la prova Trova la chiave Allora Al suicidio Chiave Ci serve una chiave E qui ci sono degli infetti Anche se non ne vedo neanche uno Zombie Zombie Non vorrei che fosse tipo No Zombie Ma non c'è neanche uno zombie L'azione uno vuole provare la sua spada Nuova Estremamente potenziata E non può Non si vede niente Almeno voi non vedete niente Ehi Cos'è? Uscita Fine sfida Mi sa che mi serve la chiave 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 Trovata Difficile Neanche uno zombie Vabbè Ci sono rimasto un po' male Sinceramente Prossima prova Tiro con l'arco bionico Grazie Ma ce l'ho E il mio Ah no Questo è più forte Me lo prendo Informazioni sfida Colpisci il bersaglio Avrei le chiavi per aprire la porta Fuori uno Fuori due Fuori tre Salve Ah ok Devo portare Le conferme del bersaglio Sì ma come le porto Ah le mette qua dentro No Allora Colpisci il bersaglio Avrei le chiavi per aprire la porta Non ho niente Ah ok Qua sotto Sono un idiota Perché ci sono così tante conferme bersaglio C'è anche una mappa Ok Qui qualcosa si è sputtanato Però io me le prendo tutte e cinque Grazie Non so perché vorresti Tradeare dei boots Tre Quattro Cinque Clic Checkpoint Run for your life Wow Congratulazioni Superato tutti e tre gli addestramenti Erano delle puttanate Sinceramente mi aspettavo che più persone ce l'avrebbero fatta Ma sono tutte crepate nel tentativo di arrivare alla fine Come sono morti Comunque dirigiti alla ferrovia al confine della città Buona fortuna Devo arrivare alla ferrovia 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 La ferrovia lo so dove Era tipo Qua Ferrovia Oh mio dio ho trovato la ferrovia Ah ok Devo prendere i ticket Non ho così tanti soldi Dove devo andare? Ok Questo spawn Una minecart Che bello Limite lozza Area est Area nord Area ovest E non so dove devo andare Barista Grazie Molto gentile Io vado di qua Poi se sbagliato Pazienza E via Verso nuovi orizzonti Buongiorno Signor colonnello Oh bene Un nuovo membro è entrato nel mio squadrone Squadrone Raggiungi la prossima stanza Aggiungiti agli altri soldati Nei vari terreni di guerra Il nostro obiettivo è fermare gli infatti Che continuano a riprodursi A causa della SS Corporation Qui fa come gli altri Quindi fa come gli altri Trova un modo per risolvere l'obiettivo Con una bisola E cerca di non farti contagiare Buona fortuna Thank you Tanto sei immortale Sembrano meglio questi La spada fa comunque abbastanza schifo Rispetto alla mia Aspetta Ho fatto casino No no Sono peggio questi Oh mio dio Mi diminuisce un casino la protezione Oddio Quello lì è andare avanti Va a fuoco per tutta la vita Parla con il distributore Ehi tu quando vai al vulcano di Tintoro Cerca di portarmi una testa di zombie infetta Avrai la chiave del consiglio internazionale di Lost Dai dintorni Ok checkpoint Andiamo alla parte dello zoo internazionale di Lost Devo trovare un modo per fermare la riproduzione degli infetti Ma come? Probabilmente ci deve essere un interruttore che accende tutte queste luci sul soffitto Magari funziona Trova l'interruttore per accendere le luci sul soffitto E per trovare la chiave fuggita sul teletrasporto forze armate Utilità per la notte Latte E Night Vision 8 minuti di Night Vision Però odio come trasforma il soffitto Night Vision Fuck you Guardate quanta roba mi droppano Ok questi sono animali Ibeiros Devo arrivare a 45 per prendere un pezzo dell'armatura opishit Non mi serve neanche tutta Mi serve un pezzo È talmente forte Falve Esplodi Esplodi Mi sta riempiendo l'inventario di roba? Esplodi Aia però fanno male Ok posso comprare un pezzo dell'armatura Dovrei essere a posto appena torno in città Dobbiamo cercare il modo per accendere le luci Fuck you Cibo Accendere le luci Parkour Ah cacchio Zombie Uscita d'emergenza Dove cacchio devo andare? Ok allora Devo accendere le luci Non so perché ma questa strada mi ispira Ok Bravo soldati Trovate un modo per uscire dalla zoo E stasera facciamo festa Ok dobbiamo uscire dalla zoo Uscita d'emergenza Mi serve una chiave Che non ho idea di dove sia Però adesso i zombie non spawnano più giusto Parte che qui è luminoso Ah perché Giusto ho acceso le luci No spawnano ancora Fa chiù Un modo per uscire Un modo per uscire Per uscire 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 No Questa è più tosta Perché devo trovare una chiave O qualcosa di simile Sono pieno di roba da buttare via Un modo per uscire Allora cos'è che c'è scritto? Poi trova la chiave La chiave La chiave Ah di qui ci sono già stato Di qui non c'è niente O almeno non sembra No Chiave 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 Tipo una cesta nascosta Può essere So che non vedo niente Cioè ci vedo però Non vedo nessuna chiave Vedo solo teste di zombie Lì sopra c'è un buco Sì ma Che se fosse Come posso arrivarci? Così? Yes Like a boss Tutti questi li posso anche lasciare qua dentro Tanto non mi servono a niente Forse un minecart è meglio se me lo tengo Le pillole fanno schifo Ok Like a boss No ho raccolto altra merda Uffa Con questa spada Come avevo previsto Droppa Un fontino di roba Torniamo al limite lozza Aia Cosa devo fare? Ma non stai più andando a fuoco? Ah no Devo poter Non è lui che sta andando a fuoco È quell'altro Periferia di Astiug Dove sono? Che posto di isolato? Dobbiamo isolare le fuoriuscite di infetti Per sistemare tutto Trovo il flamethor Acciarino E dei fuoco i blocchi Che sostengono la ghiaia Sopra la caserma Per evitare la fuoriuscita di infetti Successivamente Trovo la chiave del trasporto E detonare il limite di dose Ok Devo trovare l'acciarino Giusto? Sì Flamethor L'ho trovato Poi Dai fuoco ai blocchi Che sostengono la ghiaia Sopra la caserma Ghiaiaia, ghiaia Allora la caserma è questa Dannazione Se questi cominciano a spawnare Questa è la chiave Sopra la caserma Idiota Nel mentre li terrò lontani Non riusciranno a fuggire E io mi sto riempiendo di nuovo L'inventario di merda Ma se faccio così Non faccio prima Ok Non dovrebbero poter Sì Possono ancora uscire Ok Possono ancora uscire Dal buco qua in fondo Ok Ce l'ho fatta Poi Blablabla Trovata Ok Devo tornare al teletrasporto Per il limite di lozza Ora Dov'è il teletrasporto? Lì sopra direi Se dovessi tirare Lava cominciamo bene Mi sa che stavolta Romperò tutto Cosa c'è nella cassa Dietro di me? Distruggi Riproduttori di mostri Con lo slash Dello skit Poi raccogli Una testa di zombie Infetto E trova la chiave Del teletrasporto Ok Ok Al solito Ah Non hanno neanche cambiato l'immagine No Direttamente questa Gli stavano sulle scatole Devo usare questo Non c'è niente Una testa di zombie infetto E la chiave Mi serve Sì Non fanno neanche il tempo a spawnare Troppo veloce Too cool for you Ok Non la voglio la pillola Le fanno cagare Qui sopra è spawnato qualcosa No Lava Quello è il vulcano? Non so che strane idee hanno dei vulcani Però Beh Vado qua sopra Devo andare nel vulcano Vero? Quindi è meglio se prima esploro Questa torre Chiave Yes Quindi possiamo già uscire Però ci serve una testa di zombie D'accordo Ce la possiamo fare Immagino Abbiamo la spada Uppishit E l'abbiamo ottenuta Rubando i soldi Dal negoziante Lo zombie dove è spawnato? Ah ok Oh cazzo Ok Allora Di lì si esce Quindi direi che la Testa dello zombie Deve essere qua da qualche parte Parkour Sulla lava Il peggiore Merda Ok Ok E la testa dello zombie Mi sono perso qualcosa Io ho fatto sto parkour qua sopra Per distruggere lo spawner Quindi questo qui è per tornare indietro Ma vabbè Non ci interessa Aia Ci serve la testa dello zombie Cerchiamo Questo è un problema Iai Questo è un grossissimo problema Non posso risalire Almeno non di qua Ho un casco dell'infetto Posso risalire Non è propriamente Legale come cosa Però Pazienza Aia Sono finito Dove 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 Ok Ok Allora Noi Possiamo Essere Qui Sì Perché Questo posto È accessibile Però Non abbiamo La testa dello zombie Nonostante abbiamo controllato Ogni singolo palazzo Eccola La sotto Quanto ci scommettete No Sono i Beiros Dannazione Vai via La testa dello zombie Dove Cacchio È Io che cavolo Ne so dove Perché mi mandano A cercare Teste di zombie Ok Ci ritroviamo Siamo tornati Ehm Non l'ho trovata No Proprio Ho cercato qui Per dieci minuti Niente Zero Quindi farò L'unica cosa possibile In un caso del genere Zombie No Veramente Non c'è Game Zero Via Aia Tu Tieni Chiave Del consiglio Andiamo Al consiglio Ah Smette Quello Di andare A fuoco Parla Con il Presidente E il Sindaco Ok Questa non è male Però questo è ancora grigio Mi depotenzia Mi depotenzia Oh Parla con il Presidente E col Sindaco Oddio Benvenuto Giovane Soldato A quel che mi è stato detto Non riesco a credere Sei il sole Ed unico Che ha fermato La riproduzione Di infetti Che minacciava Di invadere Lozza E anche l'unico Superstite Dello squadrone Del colonnello Delle forze armate Sono l'unico Che c'è andato Si in realtà Non mi sono molto stupito Nel fare questo So che magari È difficile da credere O meglio Per me lo è Ma tutti mi dicono Che sono uno skit E che non so Ne ho ancora Capito bene Cosa sia Tu non puoi essere Lo skit L'ultimo è scomparso Migliaia di anni fa Presidente Calma Sindaco Io credo vivamente Che tu lo sia Perciò hai diritto A prendere l'armatura Conservata da tempo Alla tua sinistra Fa schifo Ma Presidente Niente ma Vai guerriero A niente Alla SS Corporation Salva noi Salva il futuro Prendi l'armatura Raccoglila Conferma La conferma Teletrasporto Teletrasportati Alla SS Corporation Ok Quindi questa armatura È opisita A quanto pare Ah Questa qui la conferma Quindi Se dicono Che è più forte di questa Io mi fido E la sostituisco Però Sinceramente Non so Credo che Forse Nelle impostazioni Doveva dire Togliete le nuvole Perché le nuvole Fanno casino Ah Salve Sì Lei è il presidente Lei è il sindaco Stronzo Ok Cosa devo fare? Prendi l'armatura Accogli la conferma E teletrasportati Alla SS Corporation Ok Ok ma da dove? Ah Da qua dietro SS Corporation Devo tornare in città Oddio Ah Ce n'è ancora uno Che culo Non andartene Senza di me Ok Con questo casino Concludiamo la Quattordicesima puntata Ci vediamo domani Con il gran finale Che penso che Riusciremo a concludere Questa custom app Si spera Quindi A domani Bye bye